Sicuramente siamo partiti non bene, dal punto di vista sembra meno brillanti di loro e questa è una cosa su cui dobbiamo lavorare e ragionare, forse anche un po' più intimoriti nel palleggio in quello che a noi ci riesce meglio, nell'andare a cercare delle situazioni di gioco, poco lucidi nelle scelte, poi abbiamo commesso, credo che il primo gol sia venuto da un volesse calciare Valentin Carboni ha fatto un assist, non ci gira nemmeno bene perché il secondo gol poi abbiamo perso una palla sì ingenuamente perché Mattias che è un giocatore che a noi sta facendo benissimo deve capire che in certe zone di campo bisogna arrivare a ricevere la palla in maniera differente, magari a volte scaricare, non per forza cercare il dribbling e come dicevo se vi ricordate un po' di tempo fa come, dove e quando fare certe cose, bisogna imparare bisogna migliorarla. Poi abbiamo sempre detto che il percorso di questa frazione passa anche attraverso gli errori purtroppo in questo momento rispetto a prima gli errori che facciamo li paghiamo in maniera netta siamo fatti 8 gol da soli nonostante avessimo preso dopo i primi 20 minuti il pallino del gioco in mano dove siamo stati un pochino più bravi a mettere il Monza nella loro area, nella loro metà campo cosa che abbiamo fatto dal mio punto di vista molto bene nel secondo tempo, solo che recuperare 3-0 non è mai facile e il terzo gol un pochino ci avrebbe potuto tagliare le gambe invece è stata un'ottima reazione della squadra peccato veramente, peccato perché siamo sempre qui a volte a rimpiangere delle prestazioni fatte in un certo modo e delle grosse ingenuità che paghiamo dal mio punto di vista più del dovuto rispetto a quello che produciamo al grande siamo migliorati tantissimo ultimamente, facevo una riflessione sul possesso e sul fatto di essere una metà campo avversario con grande continuità però non ci ha portato risultati e questa è una riflessione che va fatta anche se deve essere positivo se noi andiamo a valutare il fatto di avere più palla degli altri, del meno possibilità agli avversari di poterti far male magari a noi ci sta succedendo un po' il contrario e questa è un'analisi che mi dispiace tanto perché abbiamo lavorato tanto in questa direzione e invece ci ritroviamo oggi ad analizzare nell'ultimo periodo, nell'ennesima sconfitta amara per come è anche venuta e per come ci siamo fatti anche un po' male da soli il fatto delle ultime sconfitte sicuramente vanno a pesare un po' è inevitabile, è inutile nascondersi dietro a un dito ti danno fastidio, ti dispiacciono principalmente per come sono venute però ogni volta se devo pensare di aver perso una partita perché la squadra avversaria mi ha dominato faccio fatica a dirlo, faccio veramente fatica o faccio fatica a dire che siamo andati in conto ultimamente a delle sconfitte dove abbiamo tra virgolette ci siamo fatti spesso un po' male da sole e questa è una riflessione dobbiamo alzare, l'avevo già detto un po' il concetto dell'attenzione in certi momenti della gara capire che rischiare in certe situazioni non ha un senso e diventare un pochino magari più pratici in questa cosa qui siccome il girone di ritorno diventa un altro campionato dobbiamo alzare in questo senso l'attenzione peccato, peccato perché produciamo sforzo, produciamo anche tanto gioco mi dispiace perché la squadra ha dato credo tutto e lo ha dimostrato e io voglio che la gente anche di Frosinone sappia che questi ragazzi cercano sempre di dare il massimo al di là poi dei risultati, se poi valutiamo i risultati va tutto un po' a morire in ultimo periodo però scendono in campo sempre per dare del loro meglio per questa maglia e questo deve essere alla base per poter continuare ancora questo percorso Sì, noi dobbiamo recuperare alcuni giocatori importanti in alcuni ruoli siamo un po' deficitari dal punto di vista sulle fasce non abbiamo giocatori di ruolo oggi è giocato Lirola che non era proprio al meglio però avendo solo lui abbiamo cercato tra virgolette anche un po' di rischiarlo poi ho fatto altre scelte durante la partita ma legata ad un aspetto tattico perché volevo rimettere un giocatore nelle condizioni di potersi esprimere al meglio sono tanti aspetti, stiamo recuperando Mazzitelli sono giocatori che a noi ci danno anche esperienza nei momenti anche di difficoltà sono quei giocatori che tu quando parli in mezzo al campo ti capiscono al volo perché hanno magari una maggiore conoscenza di certe cose e noi queste cose le dobbiamo, io personalmente devo cercare di sfruttarle al meglio rimettendoli in condizioni non ci devono minare la gente ci deve aiutare voi ci dovete aiutare quelli che vogliono veramente bene a Frosinone perché questi ragazzi vanno sostenuti è come avere dei figli a casa che sono dei momenti di difficoltà che danno il massimo e non riescono a ottenere quello che possono e i genitori li continuano a bastonare io credo che in questo momento abbiano anche bisogno di qualche carezza e di essere tra virgolette avere qualche rinforzo in più che qualche batosta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti